In questa puntata il dottor Giuseppe Di Bella torna a parlare delle caratteristiche delle molecole utilizzate nella multiterapia e in particolare del ruolo dei retinoidi. Il meccanismo ubiquitario e multifunzionale dei retinoidi è stato recentemente oggetto di studi che ne hanno sottolineato l'importanza nella cura delle malattie tumorali, infettive e virali. Queste preziose molecole biologiche intervengono sin dall'inizio della vita sull'embrione, sui meccanismi di crescita, riproduttivi, nella composizione del sangue e riguardano l'intera immunità in tutti i suoi settori. Non mancate sabato sera alle ore 21 su Telecolor, canale 17 e in streaming su telecolor.net e sulla nostra pagina Facebook.